Buongiorno, sono l'Igiene Stefano Calzavara, Presidente della Commissione Pareri. La Commissione si occupa di approvare le richieste dei colleghi che hanno avuto problemi col pagamento delle loro parcelle e quindi richiedono tramite i loro legali oppure tramite loro stessi la vidimazione della parcella. Quindi dobbiamo provvedere all'esame, appunto, secondo la normativa vigente di queste parcelle e di dare un giudizio di congruità. Questo si risolve anche in parecchio tempo perché è necessario esaminare per bene il tutto, ovviamente avendo la necessità di far poi validare anche dai legali e dai colleghi queste richieste. Il problema principale che vorrei ricordare a tutti quanti è di sempre, sempre, avere un minimo di contratto, una mail, un qualcosa che vada a giustificare l'incarico affidato, altrimenti per nostra norma deontologica non possiamo provvedere al parere di congruità.